Interventi chirurgici molto complessi ai pazienti sveglio, cioè senza anestesia totale, grazie a una recentissima tecnica per la quale l'Aquila fa scuola ad anestesisti di tutta Italia. All'ospedale San Salvatore, come accade solo in 5 non so come in Italia, persino le operazioni più dolorose, tra cui quelle ortopediche, nella fase post-operatoria, non richiedono per il controllo del dolore la somministrazione di farmaci antidolorifici, dando la possibilità al malato di anticipare i tempi della riabilitazione. Tutto ciò grazie a una recentissima tecnica anestesiologica introdotta gradualmente da un paio d'anni. È una tecnica complessa che, valendosi della visione degli ultrasuoni, consente di raggiungere con estrema precisione il punto preciso dove posizionare il farmaco anestetico, ottenendo anestesie locali estremamente precise. Nell'esecuzione si richiede una notevole esperienza e un lungo apprendistato. Il reparto di anestesia del San Salvatore, diretto dal dottor Tullio Pozzone, è da tempo diventato meta dei professionisti della specialità da tutta Italia, Torino, Milano, Roma e Palermo, solo per citare le località più importanti. Sono stati finora 130 gli anestesisti, provenienti da altre realtà della penisola, che hanno frequentato le lezioni tenute a San Salvatore. Lo specialista a cui l'ospedale aquilano deve tanta considerazione è dottor Pierfrancesco Fusco. Nella quasi totalità degli ospedali italiani, operazioni con elevato coefficiente di difficoltà, come l'asportazione di neoplasia al seno, operazioni al torace e un senso più ampio di chirurgia generale, vengono compiute addormentando in toto il soggetto da operare.